ben ritrovati di nuovo su review.io oggi vado a recensire insieme a voi un altro articolo da viaggio utile per l'estate avevo recensito dei cuscini memory foam ideali per il viaggio vi lascio magari in descrizione il link del video e anche per acquistarli su amazon e adesso vado a recensire un altro prodotto appunto questo frigo che potete attaccare alla corrente di casa o dell'albergo qualora voi andaste che ne so in un albergo che non ha un frigo per tenere fresche le bevande ma anche all'accendisigari dell'auto quindi per tenere durante di viaggi lunghi o anche brevi le bibite al fresco oppure il che ne so i panini al prosciutto in modo che non che il prosciutto non vada a male sto parlando di un frigo che ho cercato a lungo su amazon tra vari e frigoriferi e devo dire che in termini di qualità prezzo è secondo me uno dei migliori l'ho già aperto l'ho già testato l'ho messo giusto nel cartone per farvi vedere che appunto arriva ben imballato leggevo alcune recensioni su amazon dove dicevano e ma arriva senza imballaggio tutto spaccato eccetera no io l'ho trovato in questo cartone ben protetto addirittura c'è anche la carta bollata quindi non è un problema nel senso il packaging e devo dire quindi che magari quelli che si sono lamentati e perché l'hanno ordinato usato perché si può si può comprare anche usato sempre lo stesso prodotto il prezzo e sui 50 euro in offerta vi lascio il link in descrizione di amazon sperando che lo trovate anche voi ma la capacità di questo è da 20 litri c'è anche da 28 litri lo trovate ovviamente uguale ovviamente 28 litri cambiano le dimensioni e costa di più allora vado a tirarlo fuori dal cartone e e guardiamo insieme tutte le caratteristiche ecco il frigo come si presenta una volta tolto dalla confezione devo dire che i materiali sono veramente resistenti si tratta comunque di una plastica che serve a tenere il freddo ma anche il caldo devo dire perché è una cosa che mi sono dimenticato di dire che questo frigo può fungere da frigorifero quindi generare del freddo all'interno ma può fungere anche da tra virgolette forno perché arriva anche a una temperatura fino a 60 gradi celsius quindi per tenere calde non so delle pizze se ci stanno dentro adesso non ho fatto la prova comunque anche del cibo caldo tutto dipende da come voi andate a girare l'interruttore se su caldo o freddo io l'ho acquistato principalmente per portarlo durante un viaggio a lunga percorrenza e utilizzarlo come frigo per le vivande cibo frutta eccetera ma voi potete utilizzarlo come meglio credete basta comunque girare l'interruttore questo perché alla ventolina dipendenza di dove girate l'interruttore rimette calore o genera calore o aria fredda allora vi leggo giusto le indicazioni al volo abbiamo un peso di 4 kg 42 di altezza larghezza 40 28 e mezzo sono la dimensione di questo lato abbiamo allora capacità vabbè ve l'avevo già detto di 20 litri in questo caso 230 volt barra 200 volt la classe la classe la classe energetica è a più più quindi non consuma tanto e abbiamo poi come appunto temperatura raffredda fino a 20 gradi questo se mettete su freddo mentre se mettete su caldo può arrivare come vi dicevo anche a 60 gradi 12 volt il collegamento all'accendisigari mentre poi abbiamo anche la funzione eco che si può impostare di 8 watt quindi una funzione eco che vi specifico già è consigliata di utilizzare ovviamente funziona solo la funzione eco una cosa da dire quando lo attaccate col cavo di corrente elettrica e la funzione eco vi permette di risparmiare un po di energia la ventola si sente ovviamente di meno però ecco è consigliata di impostare la funzione eco solo quando il frigo è mezzo a pieno perché se pieno poi fa più fatica a raffreddare eccetera vi faccio vedere questo scomparto diciamo che si apre così quindi contiene già tutti i cavi ordinati e puliti senza averli vaganti c'è la fessura per passare il cavo e vi faccio vedere questi cavi allora questo è quello della corrente e con questo vi ripeto potete scegliere se utilizzare la modalità eco o meno mentre questo è quello dell'accendisigari saranno su un metro e passa la lunghezza quindi lo mettete nel sedile posteriore o magari anche nel bagagliaio potrebbe arrivarci come vedete qua ci sono gli interruttori allora abbiamo vediamo se mette a fuoco cool funge da frigo hot funge da forno diciamo qua abbiamo impostata la modalità eco qua potete mettere quella max e ovviamente se mettete il tasto in mezzo è off ripeto se attaccate con l'accendisigari l'unica funzione che va è quella max quindi la ventola va al massimo questo perché non si può appunto non lo so ha impostato così non si può agire su sull'interruttore di eco ma funziona solo su max e quindi non preoccupatevi non è un difetto è proprio così la ventola in termini di rumorosità devo dire che modalità max è un normale brusio non so del ventilatore per dire non fa quindi casino mentre su eco è praticamente impercettibile quindi anche qui è molto positivo allora vi faccio vedere un attimo come si apre qua ovviamente è chiuso se la barra è sulla sinistra se la mettete sulla destra si apre alzando qua all'interno mi mostro la ventolina che permette di raffreddare come vedete qua ci sono delle caratteristiche c'è anche una guarnizione all'interno trovate anche il libretto di istruzioni quindi non è una cinesata come prodotto è un prodotto fatto bene ci sono tutte le caratteristiche potete come vedete mettere su questa versione di 20 litri che ne so un termos dove ci mettete il caffè potete mettere una bottiglia da un litro e mezzo attenzione perché questo può crea spessore quindi qua la bottiglia non ci sta ma se la mettete qua c'è anche il foro quindi va benissimo comunque potete anche per raffreddare e ad aiutare il raffreddamento quello che viene anche consigliato è sicuramente farlo partire un po prima a casa o in albergo se lo utilizzate per un viaggio quindi fare in modo che si raffreddi già a casa e poi mettere all'interno anche delle tavolette di ghiaccio quei panetti lì così che si aiuta diciamo a raffreddare agevola un po il lavoro della ventola e tiene il freddo quindi questo è il mio consiglio come vedete i materiali sono buoni sono solidi se si in forma della condensa sotto è normalissimo è come in molti frigoriferi solo che non lo vedete magari e devo dire che mi piace davvero come dimensioni non è troppo ingombrante compatto è veramente un buon prodotto sono già andato a provarlo e devo dire che raffredda in maniera davvero veloce ho fatto anche il test in macchina appunto vi dicevo che non potete impostare su eco e adesso magari vi vado a mostrare così potete vederlo con i vostri occhi il meglio sentirlo il rumore che fa la ventolina come vedete sono andato a attaccare il cavolo a corrente di casa è veramente molto utile questa scanalatura adesso qua e su off impostato vado a mettere su frigo e vado a su eco sentite la ventola è veramente impercettibile il rumore vado a mettere su max la modalità che poi avrete essere attaccata ad accendisigari dell'auto questo è max un ventilatore praticamente se poi avete la radio accesa lo tenete dietro sui sedili dietro nel bagagliaio e avete comunque diciamo il rumore del delle gomme sull'asfalto che vanno non vi accorgete neanche fidatevi e comunque adesso rimbombo un po perché all'interno è vuoto questo è quanto se volete invece impostare la modalità 8 girate vi lascio il link in descrizione mi raccomando non sbagliate non confondetevi con altri prodotti link in descrizione diretto sia di questo qua che ho recensito da 20 litri ma anche quello da 28 magari qualcuno ha bisogno di qualcosa di più grande potete usarlo anche in campeggio comunque in diverse occasioni un prodotto veramente valido ve lo consiglio per ogni curiosità o dubbio che avete potete potete contattarmi e ovviamente cercherò di rispondere alle vostre domande